Ma bella, 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 tutto bene? Oggi ragazzi siamo ritornati su metamc.it, esatto, ed andremo a giocare nella mia modalità, ovvero la modalità PvP Però non so quanti di voi si siano accorti il cambiamento che ho fatto, esatto, non vi ho ancora chiesto like, giusto? Eh esatto, è vero, questo era il cambiamento No, siamo su Bad Rock Edition Prima di iniziare con il video, se ancora non l'aveste fatto, vi invito calorosamente a lasciarmi un bel like E di iscrivervi se ancora non l'aveste fatto, perché tanto è gratis e non vi costa nulla Ma detto ciò, oggi ho deciso di ritornare su Bad Rock Edition perché volevo rispondere a questa domanda Quanto è effettivamente difficile fare PvP da Bad Rock Edition su un server Java Edition? Scopriamolo Ok ragazzi, eccoci qua, eccoci qui, perfetto, allora ci stanno un paio di personcine Il mio intento sarà quello di fare dei PvP in tutte le modalità, o almeno la maggior parte delle modalità presenti E vedere quanto è effettivamente difficile vincere una partita qua su Minecraft Bad Rock Edition Però senza perdite di tempo, prendiamoci il kit e iniziamo con il Crystal PvP Ok, iniziamo subitissimo Eh vabbè, ma sono appena spawnato, mamma mia, aggressivo ragazzo Ok ragazzi, io non ho mod Ok, partiamo già col dire questo, io non ho mod attualmente E quindi qua si vedrà effettivamente, sono veramente bravo in Crystal Ho ucciso un HT5 che è da Java da Bad Rock Sono molto forte Dovete prendere in considerazione il fatto che attualmente, ripeto, non sto utilizzando nessuna mod Solamente una texture pack perché ovviamente vorrei portarmi un video croccante E ho provato a portare questo video senza texture pack Ok, per chi ha mai giocato senza texture pack, penso tutti ormai Può capire, può capire, ok Non posso nemmeno re-kittare, quindi farò PvP finché non andrò a morire Poi una volta che sarò morto, switcherò Ok, abbiamo un altro top tier No, che è? LT4 Buono, buono, buono Vediamo cosa riesco a combinare Non riesco Sì, è Bad Rock Ok, ho fatto fuori un totem Fermi Vediamo se riesco a... Ok, scendiamo qua sotto Eh vabbè, ma dove sono andato? Nelle backrooms? Ok, vediamo Vediamo se riesco a fregarlo Non riesco manco a essere molto più veloce Perché qua su Bedrock, ragazzi, è... Guardate Ok Scendiamo qua sotto Ti prego, ti prego, ti prego Qua Bro, non c'è manco il modo, non andiamo in taverna, ti prego L'ho ucciso? No No, no, non vado lì C'è buio C'è buio, bro Non ho le mod Non ho le mod Non ho nessuna mod Devi capirlo Sali, bro Che vedo tutto scuro È andato via Bro, noi, ragazzo, è andato via Bro, ma perché? Ma perché? Ok, boys Abbiamo un altro Ma riesco a piazzare... Uh Ok, le perle Vogliamo parlare veramente delle perle? Erano... Non lo so Sembrava di aver lanciato una palla da basket Altro che perla Vediamo se riesco a combinare qualcosa No Che sta facendo sto uomo? Uh Vuoi fregarmi davvero così? Bro No, 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 no Totem Devo metterlo così in offhand Fatemi sapere se esiste un trucco per metterlo in offhand Senza aprire l'inventario Fare tutto questa roba qua Ok Non posso manco vedere i cuori quando apre l'inventario Che stai dicendo, bro? Ok Ti prego Ok 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 Piano, piano Chi va piano va stanno e va lontano Ti prego, ti prego No, no, no Ok 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 No, 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 no Che fa' l'inventario sta Raga, l'inventario lagga Oh mio Dio Fortunatamente è caduto sotto Oh mio Dio Oh mio Dio Uhuhuhu Uhuhu Io ragazzi continuavo a premere Però l'inventario si apriva in un delay assurdo E non posso manco spammare le boccette di XP per ripararmi l'armatura Ok, vai Vai Ok No, no, no Fermi, fermi Mangia una mela Ok, l'esco Ma fa' così per forza Oh no, 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 no Ma perché basta switcharmi i block? Ma che fastidio Ok Andiamo Guardate, guardate No, no Dovete guardare tutti questa cosa Adesso va Cioè, non lo so Quando dico guardate Funziona tutto Oh oh Qua, qua, qua sotto, veloci No, 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 no Oddio, sto per morire Oh no, 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 no Oddio Non dimmi che eri chittato No, sono morto Sono morto Ma che è successo? Come Carpini, Tautototem, accusato di hack? Comunque fa niente Ci spostiamo Proviamo la Mace Vediamo un attimo com'è Allora, vediamo com'è Far PvP su Mace PvP Oh mio Bro, sono appena entrato, aspetta E non va Raga, non va la polvere Non va la polvere Non va la polvere Eh, la polvere La wind charge Non funziona Ragazzi Che succede? Ma è tutto rotto Ma è bedrock È davvero così? Questo è HT4 Oppure No, mi accira Mi accira sto uomo Mi accira Mi accira Mi accira Mi accira Devo provare a fare un altro metodo Allora Facciamo così Ti prego No Ma c'è un cooldown assurdo Ma non posso Sono morto Ma è fastidiosissimo Far PvP così però Guardate Non fa nulla Non è possibile No, no Fare Mace PvP Su Bedrock Edition È una tortura Partiamo già Da questo presupposto Mi accira Mi accira Lo sento dietro Lo sento dietro Ok No L'ho mancato Mi prende No, 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 no Ok Che sto combina Bro Ti devo uccidere così Bro Ok Facciamo Bro Bro L'ho preso L'ho preso Ok Che sto Che sto facendo L'ho preso un'altra volta L'ho preso Oh l'ho ucciso Let's go Let's go Però devo fare uno switch Assurdo Per uccidere persone Veramente Non fa Non fa Non ha Ragazzi Ragazzi Avete visto Cosa è appena successo Ho letteralmente Riprodotto l'animazione Per usare La wind charge E non mi ha wind charge In aria Non mi piace Passiamo da un'altra modalità Ok Direi di provare Sword Vediamo un attimo Ok ragazzuoli Chi vuole fare PvP Contro di me Tu LT4 Vai fatti sotto Ok Ok Vai Uh Oddio Bella combo L'ho fatto Oh Ok Qua sono molto più forte Ok Allora Sembra che da bedrock Fare PvP su sword Dia un vantaggio Su Perché Perché l'hai fatto Spiegamelo Spiegano Perché l'hai fatto Perché hai fatto questa cosa Ti chiami come me Chiunque si chiama Carpini Te faccio una roba del genere Si tolga il mio nickname Di losso È tutto glitchato Ma perché mi hai ritipato indietro Guardate cosa faccio Adesso Uccidilo 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 Sei intromesso nei nostri PvP Uccidilo God Ok Qualcuno mi uccide adesso Uccidimi Ok grazie Vai Combattiamo io e te Vai Let's go Vai Ma che c'ho Sto citando su bedrock Ok Ora capisco perché la gente Mi accusa di H Troppo forte Sto ragazzo Oddio Oddio No 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 Fermi E ho vinto Oddio Yo gg Vai LT4 Vai Let's go Let's go Let's go Ok Mu bravo Bravo Vai Vai Perfetto Perfetto No no Perfetto Perché se faccio una zig zag bro È inutile che zig zaghi Ma li sto dando le hit critical poi Ti prego Ho vinto Oddio Oddio Così Di nuovo contro di lui Vediamo se riesco a sconfiggerlo Ok Gli ho tirato 3 hit Ben assestate Vai 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 Let's go Uh 360 Eh vabbè Vabbè Sono un pavone Sono un pavone Ok Vai Let's go Let's go Let's go Oddio Let's go Let's go Oh sono meglio Qui su bedrock Che su java Sincero Nel giocare sword Sono nettamente meglio Qui su bedrock Vai Let's go Vai Ah con la spalla in legno Vai facciamo con la spalla in legno Vai Let's go Vai vai Oddio che combo Ok Vai Vai Ok 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 Vai vai Oddio Ma sto distruggendo tutti Ok Vai 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 Top 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 Let's go 1v1 Vai Let's go Vai Vediamo se sei forte quanto il viro carpi Vieni Ok vai Ok Che fa Scappare Ma c'è il kit sbagliato Ma c'è il kit speed questo Non ha il kit come il mio Sono svantaggiato Non molto No Non scappare Ok Vai Vai Raga Sono full vita Oddio Yo Qualcuno di voi Ok vai Fatti sotto Di nuovo Mamma mia Sono un mostro E vabbè Vabbè Sto citando raga Sto citando Sto citando Sto citando E vabbè Sharpness Spostati bro Oddio Oddio Facciamo così Facciamo tipo Fake cheating Pip 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 Let's go Combattiamo Combattiamo Vieni vieni Combattiamo Combattiamo Ah con la spalla in legno Diamante o legno Scegli diamante o legno Carpinnit imbattibile Ok Ok Pop 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 Oh mio dio Che combo gli ho fatto Pop Ok Bro questo è l'T4 pure Bro cosa mi combini Ok Vai Pop 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 No Oddio Si è glitchato tutto Ok Bugrock Bugrock Non è bedrock È bugrock Questo Oddio Let's go Titano Ma che titano Mamma mia Mi sto casando tantissimo Vai Let's go Ok Ok Vai Oh finché nessuno mi batte Ragazzi ripeto Io non switcho Ok Facciamo così Vai Vai Ok Vai Boom 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 C'ho ancora metà vita bro Ma c'ho ancora metà vita Imbattibile sono Vai Let's go Vai Ok 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 Vai Ok No Perfetto 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 Come mai sono così avvantaggiato qua Perché su Java non riesco a fare ste combo Ok Vai Ok Ok Ti prego È morto ancora Bro Ma che sta No Sta succedendo qualcosa di poco croccato Brutto nero A me Indossi pure la mia skin Come osi Come osi Come osi Come osi Odioso Odioso Come osi Indossi pure la mia skin bro No 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 Tu non fai parte della mia community Sono solamente uno che sta usando il mio nome per fare cose Vuoi combattere ancora Sto sudando ragazzi Finchè non perdo E vabbè ma qua non perderò mai A questo punto Ok Facciamo un po' di trick 360 360 360 360 Facciamo così Ogni hit li tiro un 360 Dai devo perdere Non posso fare un video solamente in sword Oddio Ok 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 L'ho preso Che vi devo dire raga Che vi devo dire Ma che vi devo dire Sono morto solamente una volta C'ho 14 di kill streak Cioè raga è crazy Vai Forza lì t4 Ok Cosa sta succedendo Ma cosa sta succedendo No no davvero A parte gli scherzi O sono io che sto shittando In qualche modo O sono loro che proprio non Oggi non è giornata No perché nemmeno Normalmente su java Sono riuscito a fare ste robe qua Ma mai nella vita Sono riuscito a fare ste robe su java Ok abbiamo qualcuno di nuovo Vai adesso Lui mi batterà sicuramente Vai Ok Vai Cioè non ci sto manco provando Ma non ci sto manco provando Bro Sono letteralmente facendo le giravolte Ok mi ho ucciso Ti prego Uccidimi Vabbè Ok Abbiamo un'altra persona Che si vuole fare avanti Io vi giuro ragazzi Se non mi uccide questo Cambio spade Uso quella in legno Forza Va bene Ok Ok Boom No no che fai Che fai No 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 Che fai In la casa Sono andato a sfidare qualcun altro No 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 Vai No devo usare quella in legno No devo usare quella in legno Mentre gli altri utilizzano quella in diamante Io devo per forza utilizzare quella in legno No ma è incredibile No no Non Non correre Vabbè Non lo seguirò sicuramente Non siamo nell'episodio di Tom e Jerry Siamo nel canale di Carpi Ah è tornato A posto Vai Combattiamo No devo usare la spada in legno Ok Uso la spada in legno Da adesso in poi Indipendentemente da chi vado a sfidare Spada in legno Questo non lo conosco Quindi usiamo la spada in diamante Per sicurezza Ok Dai Ok Ok no Ok spada in legno No no In 2v1 no però In 2v1 no No allora Ok 2v1 Ok va bene Va bene va bene Anzi non mi lamento Se muoio finalmente posso cambiare modalità Dov'è? È morto? No Ok Ok spada in legno Cioè riesco a vincere un 2v1 così? Davvero? Trolli 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 Che succede? Che succede? Oddio Vai Combattiamo io e te Vai Mamma mia Ma sto smontando tutti Ok Lo sarei anche con te la spada in legno Ok usiamo la spada in legno Va bene Bro ragazzi Mi sto letteralmente coccolando Bro Voglio solamente che qualcuno mi uccida Così vada avanti col mio video Mi sa che Indipendentemente dalla mia morte o meno Cioè prossima volta mi spoglio nudo a sto punto Cioè Cioè no davvero Davvero No scherzi a parte Ma davvero mi sta dicendo che sono così forte No È incredibile Ok vai Combattiamo io e te Ok Questo mi uccide forse adesso Sì dai Abbiamo più o meno la stessa vita Che combo Mi Ok 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 Va bene Va bene No Togliamo l'elmo Vai combattiamo Giorgio Sono senza elmo adesso Vai combattiamo E non vuole combattermi Vai combattiamo Combattiamo io e te Vai vai combattiamo Combattiamo Senza elmo Chi vuole Tu o il tu 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 Vai vieni vieni Vai Senza elmo Senza elmo sicuramente mi ci direte Ok Sta prendendo più danni ora Prego Ok Finalmente Oddio Qualcuno che ma Oddio Sì Oddio sì 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 Oh Finalmente Mamma mia Andiamo a provare qualcos'altro dai Ok ragazzi Ora siamo in netherite pot E Non funziona la mela No No anche qui Oddio Posso mettere almeno il totem Ti prego Ok almeno il totem Mamma mia Vai combattiamo Siamo contro Creba09 Vai Combattiamo bro Ok Qui si critta molto Da come so Così Pom 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 No Sto vincendo pure questo Oddio Ho fatto fuori il totem È morto È morto È morto È morto È Bro Bro Cosa sta succedendo esattamente Potresti spiegarmelo Ok Cosa sta succedendo Non ho usato Né una pozione Né ho aggeppolato In tutto questo scontro Al momento eh Giusto per farvi capire Boom Vabbè Che vi devo dire ragazzi Cioè non so cosa devo dirvi Non è colpa mia Ok Abbiamo Un altro sfidante Danon 3712 Bro vai Fatti sotto Ah il totem ovviamente Ok Sei pronto? Tiro al tempo Necessario Vai pronto? Vai Lesco Vai Combattiamo Dammi un po' di filo Da torcere Vai E ho vinto Ma è facile Ma allora a sto punto Allora sapete una cosa Da adesso in poi Se devo fare un pp in sword Entro da bedrock Se invece Devo fare crystal Entro da giaba Così E ho vinto Penso personalmente Che fare pvp Da bedrock edition In attacco diretto Tipo sword Queste modalità qui Sia effettivamente La cosa migliore Cioè davvero Non sto scherzando Noto un miglioramento Incredibile Cioè voi magari non Dovreste provarlo Ok Per chi magari Ha mai giocato sword Su java Venga magari su meta Qui stesso E provi la differenza Da java a bedrock Giusto per provare Ok Giusto per provare Se volete Fate una roba Ok Fate un video In cui provate A far pvp In diverse tipologie Di modalità Fate prima un duello In java E dopodiché Fate la stessa identica cosa Però su bedrock Provateci Provateci Voglio Voglio vedere un video Del genere Fatto da voi E nulla ragazzi Direi che Abbiamo finito Vediamo se c'è altro Da provare Perché a sto punto Ragazzi Cioè Volevo morire qua Ma non ci stanno Molti giocatori adesso Vediamo qua Se ci sta qualcuno No Non ci sta nessuno L'unica cosa In cui ho avuto difficoltà Fu Crystal Però per il resto Sicilla Non posso mettere L'arco qui E nulla ragazzi Spero vivamente Che questo video Vi sia piaciuto Vi invito a lasciarmi Bellissimo like Ed iscrivervi Se ancora non lo aveste fatto Perché noi ci vediamo domani Come al solito Alle 15.30 Con un nuovo video E freschissimo video Non posso perdere Su Bedrock Sono troppo forte Ciao belli Ciao防 Ciao I Grazie.